Sono quelle domande che in genere danno adio a una risposta che è una cazzata. Essere liberi è fare ciò che vogliamo rispettando gli altri. La sensazione di libertà mi viene data dal palcoscenico. Nel palcoscenico, quando sono lì, tutto gira intorno a me e lì mi sento libero. E poi la libertà, nel senso più fisico, mi viene data dalla montagna. Quando sono in montagna mi sento libero. Sarà perché sono piccolo, dall'altitudine. Più vado in alto, più mi sento libero. Sì, assolutamente libero. L'artista sì, perché ho sempre fatto quello che ho voluto. Comunque, in generale, io essendo considerato un po' un cane sciolto del mondo dello spettacolo e essendo sempre stato anarchico, fondamentalmente, credo di essere un uomo abbastanza libero.